La gara di Mick Schumacher, io direi il weekend di Mick Schumacher, è partito da Silverstone, occasione in cui è andato per la prima volta a punti, un Mick Schumacher on fire, una Haas on fire, che gara di Mick, che weekend di Mick, finalmente. Finalmente, sì, devo dire, la Haas è molto forte, c'era Hamilton che si lamentava di quanto fossero veloci sul rettilineo. Mick, secondo me, è veramente ora si è sbloccato, nel senso che già dalla settimana scorsa ha preso consapevolezza delle sue potenzialità, ieri veramente lottato come un leone, si sarebbe meritato quel punticino dell'ottavo posto. E quello che mi è piaciuto di più, non so se avete avuto modo di vederlo, insomma, sono state le dichiarazioni, insomma, nell'intervista, aveva veramente gli occhi infuocati di rabbia, no? Perché comunque era arrabbiato con la squadra, secondo lui, insomma, Magrussen non l'aveva aiutato abbastanza col DRS, e veramente sembrava suo papà quando voleva andare a picchiare Coulthard a Spa 98. Allora, diciamo che quando abbiamo fatto lo spezzone ultima spiaggia a Monte Carlo è stata davvero l'ultima spiaggia per Mick, che poi ha saputo reagire. Monaco è stata l'ultima spiaggia, sfortunata la gara prima, mi pare, in Canada o Baku, secondo me, di Mick, ma è davvero uscito fuori. Però dobbiamo anche ammettere, Giacomo, che un po' era la tendenza che aveva Leclerc negli anni passati con la Ferrari. Date una macchina a questo ragazzo, che poi lui saprà cosa farci vedere. Un'AS nettamente migliorata, si dice che, insomma, sia un po' il laboratorio della Ferrari per aver aggiornato la parte ibrida, che gli ha dato una potenza incredibile. Cioè, oggi l'AS era velocissima. Sì, era una cosa fuori dal comune, veramente. E sesto è... Sesto è ottavo. Secondo me il problema è che Magnussen non ha fatto una brutta gara, eh. No, 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 tutti e due sono stati in gamba. Ieri Magnussen, vabbè, è arrivato anche davanti, è arrivato settimo. E, no, quello che volevo dire è che si può sempre opinare, no, vabbè, i punti, il decimo posto, può essere fortunoso. Però, voglio dire, arrivare sesti, un bel risultato. Assolutamente sì, assolutamente sì.